Il Rettore Unicam ed il Presidente di Simonelli Group, Nando Ottavi, hanno presentato nei giorni scorsi in Regione Marche, alla presenza del Presidente Luca Ceriscioli, l'International Hub for Coffee Research and Innovation, centro di ricerca innovativo per l'intera filiera del caffè che rappresenta un concreto esempio di sinergia tra sistema accademico ed imprenditoriale in grado di dare lustro e visibilità alle marche nel mondo. Con scelte come queste proiettiamo queste capacità in avanti, sfruttiamo appieno un cambiamento epocale che c'è stato nell'atteggiamento che le università hanno rispetto al sistema e le aperture che le imprese oggi fanno nei confronti delle università insieme rappresentano il meglio della nostra regione e attraverso questi percorsi possiamo finalmente guardare in avanti e guardare in confiducia quello che abbiamo di fronte. E' un messaggio che serve nello specifico, ma dico serve all'intero sistema perché tutti i marchigiani, è vero siamo stati grandi, siamo stati grandissimi, possiamo esserlo ancora di più nel futuro. Un progetto tutto marchigiano, orgogliosamente marchigiano, la strategia è sempre quella, prendere e valorizzare le eccellenze dei nostri territori e portarle in giro per il mondo per una strategia condivisa. Siamo molto molto orgogliosi di farne parte, una nuovissima modalità di collaborazione impresa a università che vogliamo ovviamente promuovere a tutti perché speriamo diventi brevissimo una nuova modalità per tutti quanti. Vogliamo riprendere le tre missioni delle università e portarle e condividerle con una importantissima realtà del nostro territorio che è la Simonelli Group. Si tratta altresì di specializzazione intelligente, tutto questo lavoro a vantaggio del caffè, non solo delle macchine del caffè ma di tutta la filiera, insieme coinvolgendo ovviamente eccellenze in giro per il mondo. Vogliamo investire in ricerca e innovazione con l'Università di Camerino che già collaboriamo ma vogliamo creare un legame ancora più forte, più forte per cercare di estenderci come sede nella nostra regione, a Torrentino, a Belforti, ma come obiettivo è quello internazionale. Vorremmo coinvolgere le università internazionali, gli enti di ricerca internazionali per guardare la filiera del caffè a 360 gradi.